L'Anna che fa il rap è un po' il mio alter ego, però alla fine io sono abbastanza chill. Ogni artista deve fare un album a un certo punto. Mi piace fare uscire i singoli, sì, assolutamente, però penso che in questo progetto ci siano tanti singoli che possono andare come se mi facessi uscire singolarmente. Cerco di essere il più educata e gentile con tutti, cerco di essere una bella persona quotidianamente. Però ovviamente quando si tratta della mia musica, comunque del rap, tiro fuori il mio lato un po' più strong e un po' più aggressivo, però comunque alla fine il rap è una forma d'arte. L'Anna che fa il rap è un po' il mio alter ego, però alla fine io sono abbastanza chill. Sono sempre stata un po' la tecora nera in ogni contesto, da quando ero un po' più piccolina, diciamo che tante volte magari venivo anche un po' esclusa perché comunque ero una ragazzina un po' particolare, avevo il mio carattere e tutto e quindi mi sono sempre sentita un po' l'eccezione sia in modo positivo sia in modo negativo. Ultimamente mi sono sentita l'eccezione finalmente in modo positivo e sono super felice.